Allora, lui è Pietro Spallone, dove siamo? Siamo a Radio Interland Siamo a Radio Interland, perché grazie a Radio Interland e a Pietro tornerò in diretta con un programma 2.0, molto 2.0, che andrà in onda il lunedì alle 22 e che si chiamerà Un Lunedì da Full Webber perché in mezzo alla musica parleremo di tecnologie, di smartphone, di Facebook di tutte le novità che, come sempre, mi piacciono e ci piacciono e faremo un vero programma 2.0 perché saremo in onda sulle frequenze FM che è in 94.6 di Radio Interland e in streaming anche, sullo streaming di Radio Interland ma anche in un'altra veste, dal mio sito nicobenz.it ci sarà un canale live stream da cui vi trasmetterò non solo la diretta ma anche tutti fuori onda e non sarò da solo perché lì avrò ogni sera 9 ospiti ogni lunedì sera 9 ospiti che faranno parte di questa cerchia, come si dice, di Google Plus e fatevi un account perché chiunque di voi, se ha voglia, può partecipare alla trasmissione perché dal web andremo direttamente in FM facendo veramente una fusione 2.0 per partecipare ci saranno degli ospiti fissi e però sempre qualche posto ci sarà per partecipare mandatemi una mail a info-nicobenz.it e faremo tutti quanti insieme un lunedì da full web una cosa molto innovativa per noi, per una radio classica come la nostra è una cosa molto innovativa siamo contenti di vedere come andrà questa cosa grazie Pietro devo dire che secondo me è anche innovativa anche per le radio quelle più grosse perché credo che sia abbastanza nuova beh allora ci inviteranno in tanti speriamo, l'idea è quella poi l'idea è soprattutto di divertirci, di ascoltare musica e di imparare anche cose nuove perché io non sono uno smanettone, lo dico sempre ma mi piace imparare quindi l'appuntamento è dal 12 settembre 12 settembre, lunedì 12 settembre alle 22 con un lunedì da full web su Radio Inter vi aspetto mi raccomando ciao ciao